Salve a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video su Clash of Clans Oggi siamo qua per parlare di una nuova strategia d'attacco Questa strategia d'attacco io ancora non l'ho potuta provare non avendo i domatori di cinghiali Ma mi sono informato e so benissimo come farla Quindi io vi volevo appunto dire come utilizzare questa strategia Basta che avete almeno la caserma nera a livello 2 per poter creare i domatori di cinghiali E poterne almeno addestrare 35 Appena avete quel numero è come avete già le chuppe pronte Dovete quindi trovare un villaggio di qualsiasi tipo Specialmente uno di livello master Insomma tutte queste cose qua che sembrano incredibilmente difficili da attaccare Voi basta che mandate le unità in un certo modo Non mandate troppe unità solo in un posto Trovate dei punti deboli In tutti quei punti deboli che trovate perché si ce ne saranno sicuramente più di uno Mandate almeno delle pattuglie di 4 o 5 domatori di cinghiali Appena avrete fatto tenetevi qualche domatore di cinghiale per riserva Adesso l'unico problema che i domatori di cinghiali avranno Non saranno le difese come che ne so La torre dell'Ostregon, la torre dell'Arciero Tutte queste cose qua Ma saranno bombe, trappole a scatto Tutte le bombe giganti Queste cose qua Quindi voi dovete starci molto molto attenti Se vedete che zen su forte ci sono zone libere La dovreste stare veramente in guardia Ed evitare di mandarli in quei pressi Mandateli magari da altre parti Comunque loro riusciranno scavalcando le mura A attaccare prima di tutto le difese E poi a finire l'opera In breve tempo E voi potete ottenere trofei E tantissimo elisir, oro E magari anche elisir nero Quindi questa è la tattica migliore Una delle migliori tattiche Perché la migliore non possiamo ancora definirla Però una delle migliori tattiche per attaccare Inoltre vi do un consiglio Se avete il re barbaro e la regina degli arcieri E io nemmeno stavolta ce li ho Allora usate anche quelli Perché vi potranno servire veramente Tanto in caso falliste Con la tattica principale dei domatori di cinghiali Va bene Con questo il video finisce Spero che vi sia piaciuto Di esservi stato utile E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi